Ciao cari colleghi, come anticipato dal nostro presidente Mariano Carraro, voglio ricordarvi l'appuntamento di giovedì 19 dicembre presso la Venice Heritage Tower di Porto Marghera, dove dalle 17 avrà inizio l'assemblea annuale degli iscritti. Parleremo del bilancio di previsione 2020, dell'attività delle commissioni e degli strumenti di comunicazione di cui si è dotato l'ordine, oltre il tema della sostenibilità ambientale. Dalle 16 sarà possibile visitare la mostra allestita al piano terra su Porto Marghera, cent'anni di impresa e di lavoro. Dalle 18 e 30 tra i nostri illustrissimi colleghi tratteranno il MOSE, l'attività dell'ingegnere all'estero ed in più la campionessa mondiale di salita in montagna parlerà della propria esperienza professionale. A seguire ci sarà, con un piccolo contributo, un buffet all'ultimo piano, piano dell'osservatorio panoramico, dove potremmo parlare delle nostre esperienze professionali e poi scambiarci gli auguri di Natale e di buon felice anno nuovo. Vi aspetto tutti, ciao! Grazie a tutti!